Con l'autunno e i primi freddi arriva anche l'assalto della cimice asiatica. Questa specie invasiva distrugge i raccolti e infesta le nostre case. Ecco dei rimedi semplici e naturali per tenere lontano questi animaletti tanto fastidiosi. 1. Utilizzate l'aglio, o l'erba gatta. 3 o 4 spicchi di aglio sono un ottimo repellente, se fatti bollire in un pentolino con dell'acqua. Poi spruzzate l'infuso nei luoghi più infestati dalle cimici, e noterete la differenza. Anche l'erba gatta è un buon repellente, posizionato dove necessario. 2. Oli essenziali di lavanda, menta, neem, timo e chiodi di garofano, sono ottimi rimedi naturali, che diluiti con acqua, errorati sul luogo aiutano a rimuovere la cimice asiatica. 3. Un altro rimedio naturale è l'acqua con il sapone di Marsiglia. Spruzzate uniformemente la soluzione vicino le finestre e negli angoli più infestati dalle cimici, e vedrete subito l'effetto. 4. Ultimo, ma ugualmente efficace, è l'aceto. Diluito in acqua potete spruzzarlo nei nascondigli preferiti dalle cimici, in particolare nel giardino o sul balcone. In questo modo salverete anche le vostre piante o orto, senza utilizzare insetticidi e disinfestanti che compromettono le piante e l'ambiente. Alla prossima! Grazie.